Anche quest'anno si terrà il torneo dell'Immacolata dal 4 all'8 di dicembre. Quest'anno ricorre il quinto anno del Memorial Territo Savoia che si svolgeranno ai campetti Lombardo. Le squadre saranno divise per categorie che andranno dagli esordienti 2010-2011, i Pulcini 2012-2013, Primi Calci 2014-2015 e Piccoli Amici 2016-2017. Le iscrizioni entro e non oltre il 20 di novembre. Dal 4 all'8 faremo questa Kermes dove avrà delle particolarità in più rispetto al passato, dove ci sarà anche un torneo dedicato alle ragazze dell'Under-12 e dell'Under-15, dove saranno coinvolte tutte le categorie dagli esordienti ai Pulcini, ai Primi Calci e ai Piccoli Amici, dove ci saranno la presenza di quasi tutte le province al torneo con le squadre. partecipanti, diciamo che lo spazio, anche se abbiamo tre campi in erba sintetica, è piccolo, probabilmente per quello che sta arrivando dovremmo chiedere aiuto al territorio vicino, sia a San Cataldo che anche al Pian del Lago 1, al Marco Tomaselli, che speriamo di poter inaugurare con questo torneo.